SABATO 12 NOVEMBRE Il vostro stato d'animo oggi assomiglia a quello dell'attesa che, si dice, sia essa stessa piacere. Gemelli, affrettatevi a sfruttare le prerogative del momento tempismo e perspicacia. Un eventuale intoppo sul lavoro oggi non merita apprezzione. Dedicate un po' del vostro tempo agli amici, condividendo con loro i momenti di spensieratezza e relax. Cancro, nervosi, già appena svegli sotto il tiro di molteplici disarmonie astrali, tutte storte in coppia, in famiglia e se oggi siete al lavoro, anche con il capo. Il problema è che siete più propensi a cogliere gli elementi che dividono rispetto a quelli che uniscono. Leone, la luna vi rende petuosi, generosi e comunicativi. Le situazioni più strane e imprevedibili danno nuovi input ai rapporti d'amore e d'amicizia. Oggi perdete l'appoggio di Venere ma guadagnate quello di Mercurio. In coppia, puntate al dialogo. Vergine giornata, così così senza un colore definito, discrete le finanze da tenere sott'occhio. Tranquillo il lavoro ma senza successi immediati. Agite con sicurezza e determinazione senza però dimenticare che ogni cosa ha il suo prezzo e i suoi tempi. Bilancia, non scaricate sugli altri la colpa se non riuscite a raggiungere gli obiettivi che vi siete prefissati, piuttosto scogitate strategie alternative. Tensioni con il partner, il vostro famoso sour fare sembra essersi preso un giorno di vacanza. Scorpione Mercurio lascia il segno mentre Venere passa in se stile. Perderete un po' di razionalità ma otterrete in cambio il supporto della fantasia. Intanto oggi seguite i suggerimenti della luna, concentratevi sul lavoro e date uno sguardo ai conti. Sagittario, in gamba, sempre e ovunque, in affare e un sede di colloquio. Chi che seleziona il personale inserisce il vostro profilo tra i top ten della lista. Se il colpo di fulmine arriva passa attraverso il dialogo e qualche piccola follia. La complicità unisce. Capricorno, festa grande per voi, baciati da Venere che entra nel vostro segno. Peccato che oggi la luna non vi renda dell'umore adatto ai festeggiamenti. Già da domani apprezzerete la sua dolcezza, la fedeltà e le promesse che vi garantirà col suo passaggio. Aquario, luna ed urano amplificano l'originalità e il vostro estro creativo. Malgrado ciò si fanno strada nell'animo dei turbamenti che vi disorientano. Forse dovresti abbassare un tantino il tiro e provare a fare scelte più immediate e lungimiranti. Pesci di fronte hanno una decisione difficile per voi, chiedete consiglio ad un amico. Senza indorarvi la pillola vi darà un'immagine più precisa della realtà. Per stare più tranquilli cercate di sistemare una volta per tutte ciò che è rimasto in sospeso. Grazie per la visione!